Cari amici benvenuti ad un nuovo appuntamento di modelli di successo. In questo nuovo contenuto della serie profiling che vedremo a breve troverete l'analisi comportamentale di Elon Musk. Una nota prima ad iniziare. Questo contenuto è un estratto del primo vero e dettagliato rapporto di analisi comportamentale della serie profiling di modelli di successo. In questo nuovo rapporto effettuiamo l'analisi comportamentale di Elon Musk. Elon Musk è l'imprenditore visionario del momento, fondatore di aziende come Paypal, Tesla, SpaceX e SolarCity che ha dato una scorsa al pianeta e ai relativi settori di mercato più di ogni altro imprenditore contemporaneo, almeno per il momento. Unico nel suo genere, ha investito tutto se stesso ed inizialmente il suo patrimonio prima nell'immaginare e poi nel creare un futuro fantascientifico che noi tutti possiamo, grazie al suo estremo impegno, toccare con mano. In definitiva Musk ha anticipato il futuro. Elon Musk viene descritto come un ragazzone di 1,85 m, massiccio e con spalle larghe ed è stato definito mezzo playboy, mezzo cowboy dello spazio. Dinamico, visionario all'estremo, brillante, condotti fuori dal comune ma anche con un carattere ed un comportamento discutibili, Elon ha investito le sue energie e il suo patrimonio personale per realizzare ma anche anticipare di anni un futuro da film. L'analisi comportamentale di Elon Musk che vedrete in questo studio ha portato alla luce una versione di Musk che spesso potrebbe non essere percepita dall'esterno. Musk, proprio come tutti i geni visionari del suo calibro, ha una personalità complessa che stupisce sia per le sue grandi realizzazioni sia per la sua incapacità di relazionarsi con il prossimo. Quello che apprenderete in questo grande rapporto di analisi sarà un resoconto dettagliato della mente di quel tizio chiamato Elon e che ha anticipato il futuro. Elon Musk è estremamente famoso quindi in questo studio è stata omessa tutta la parte biografica. Pertanto in questa analisi tecnica di profiling e nei relativi contenuti lo studio si concentra esclusivamente sui suoi numerosi ed incredibili modelli comportamentali di business e di leadership al fine di fornire una trattazione dettagliata del funzionamento e della cablatura mentale di questo grande imprenditore visionario. Dunque dopo questa piccola premessa è giunto il momento di entrare nella mente di Elon Musk. Iniziamo. I modelli comportamentali di Elon Musk Categoria 1 Apprendimento e valore della preparazione Modello comportamentale numero 1 Passione per la lettura e dipendenza da informazioni Fin da piccolo Elon ha dimostrato una passione davvero non comune per la lettura. Il fratello Kimball ha raccontato che non era insolito per Elon leggere anche per 10 ore al giorno e che nei weekend riusciva addirittura a leggere anche due libri in un sol giorno. Abbiamo spesso ripetuto in modelli di successo quanto sia importante il valore della lettura e quante persone di grande successo hanno fatto di questa grandissima abitudine il loro punto di forza da cui poi sono scaturite altre grandissime realizzazioni. Tutti i grandi formatori e motivazionali che il mondo ha conosciuto parlano della lettura come una delle abitudini principali per il successo. Prendendo spunto da questo modello chiedetevi quanti libri leggete nell'arco di un anno. Se il risultato è tra 0 e 2 e 3 forse è meglio incrementare questo valore. Non esiste un numero giusto dei libri da leggere ma sicuramente un buon punto di partenza potrebbe essere anche un libro ogni paio di mesi e poi man mano che iniziate ad appassionarvi alla lettura e ad analizzare e memorizzare più rapidamente le informazioni in esso contenute passare anche ad uno al mese o più secondo i vostri tempi. Cosa ben più importante del numero complessivo dei libri letti è la qualità degli stessi. Proprio prendendo spunto da Elon il consiglio è di studiare del materiale che sia correlato ai vostri obiettivi personali e professionali. In merito a questo modello comportamentale relativo alla lettura Elon afferma A un certo punto avevo letto tutti i libri della biblioteca scolastica e di quella del quartiere. Ero in terza o quarta elementare. Ho cercato di convincere il bibliotecario a ordinare nuovi libri per me. Poi ho iniziato a leggere l'enciclopedia britannica. È stato utilissimo. Non puoi sapere cosa non sai. Ti rendi conto che c'è tutto un mondo là fuori. Una parte importante della dichiarazione di Elon è che denota quella sorta di dipendenza dalle informazioni che lui stesso possiede è Non puoi sapere cosa non sai. Questa piccola affermazione nasconde il motore che spinge Elon bambino e poi adulto a divorare letteralmente migliaia di informazioni. Non importa che siano informazioni tecniche o di cultura generale Elon è un nerd a cui piace imparare cose nuove sempre e costantemente. In definitiva Musk ha ragione. Non possiamo sapere cosa non sappiamo e se vogliamo migliorare i nostri risultati in tutti gli ambiti della nostra esistenza la prima cosa da fare è conoscere ciò che ancora non conosciamo. Questo modello comportamentale si rivelerà utilissimo nell'Elon Musk adulto ed il perché presto detto. Infatti ogni informazione che incameriamo nel nostro cervello viene usata dallo stesso in modi che noi neanche minimamente immaginiamo. Dovete pensare ad una singola unità di informazione come ad una sorta di mattoncino Lego che può essere usato dalla nostra mente in molteplici modi e per molteplici processi creativi. Inoltre dovete pensare al nostro cervello come ad un accumulatore di informazioni intelligente. Infatti considerando che la nostra mente è un'intelligenza biologica a milioni di volte più avanzata di qualsiasi intelligenza artificiale attualmente esistente non potete sapere come e quando le informazioni che acquisite quotidianamente verranno usate direttamente o indirettamente dal vostro cervello. Ergo più informazioni assimilate più avete la possibilità di utilizzare creativamente tali informazioni a vostro vantaggio ed in molteplici contesti. Per confermare quanto sia importante questo modello comportamentale ecco cosa dice un altro grande del nostro tempo Larry Page, ex amministratore delegato di Google. Page ha affermato Ho imparato che l'intuito non è di grande aiuto sugli argomenti che non conosci. A voler rimarcare il fatto che si può avere anche una grande creatività ed intelligenza ma senza le informazioni necessarie questi talenti servono a ben poco. Punti chiave basati su questo modello Iniziate ad appassionarvi alla lettura cominciando a leggere il primo libro di vostro interesse e dedicandovi alla lettura del testo per almeno 15 minuti al giorno. Una volta terminato il primo libro iniziate subito con il secondo e così via. Se manterrete questa buona abitudine per il tempo necessario ad installare in voi questo modello comportamentale poi non ne potrete fare più o meno. Una cosa importante Cercate di leggere dei libri che siano direttamente collegati agli obiettivi che volete raggiungere o testi che vi insegnino delle abilità specifiche che siano di vostro gradimento. Modello comportamentale numero 2 Valore della preparazione Generica e tecnica Il secondo modello comportamentale di questa categoria e che si collega al precedente è il valore della preparazione. In questo contesto quando parliamo di preparazione parliamo proprio del lato di studiare per capire le dinamiche del settore in cui si opera. Musk non solo si prepara ma lo fa al massimo per realizzare i suoi obiettivi. Ai primi tempi di SpaceX Musk aveva studiato su libri e per mesi il settore aerospaziale e le nozioni di fisica su cui si basa. Ed è proprio grazie a questi studi da cui poi effettuò dei calcoli che ne uscì convinto del fatto che si potessero costruire dei razzi a basso costo che gli avrebbero consentito di riavviare l'industria aerospaziale. Un dettaglio importante su questo modello comportamentale di Musk è che ad esempio lui non sapeva molto dei processi e del gran lavoro per costruire i razzi ma il suo obiettivo primario era imparare il più possibile strada facendo. Infatti man mano che l'azienda cresceva la sua esperienza sui razzi cresceva di pari passo. Uno dei progettisti che ha lavorato con Musk afferma all'inizio pensavo che mi interrogasse per capire se sapevo fare il mio lavoro poi ho capito che voleva imparare. Ti faceva domande finché non sapeva il 90% di quello che sapevi tu. Tutti all'unisono parlano di Musk come di una persona in grado di assimilare una grandissima quantità di informazioni e soprattutto di ricordarsele. Dopo poco più di un paio d'anni a capo di SpaceX Musk era diventato un esperto aerospaziale ad un livello tale da poter essere considerato un tecnico che ci lavorava dentro piuttosto che un amministratore delegato a capo della compagnia. Punti che aveva stati su questo modello Quando fissate degli obiettivi specifici o se avete intenzione di lavorare ad un progetto che vi sta a cuore cercate di reperire tutto il materiale possibile in merito al relativo campo di applicazione e studiate ogni aspetto possibile a riguardo. Acquisite più informazioni che potete prima di iniziare a lavorare seriamente i vostri obiettivi e studiate anche durante il raggiungimento degli stessi. Ricordate più informazioni acquisite su ciò che volete raggiungere più sarà facile raggiungere ciò che è importante per voi. Una nota su questo modello Anche se Musk ha imparato molto sui razzi strada facendo partiva da una base molto solida di conoscenza personale. Il discorso è che potreste essere tentati, dato l'entusiasmo, di buttarvi subito a lavorare per imparare direttamente sul campo. Se potete, evitate di farlo. Il discorso è che non sempre ma spesso l'imparare sul campo non è la scelta più saggia da fare poiché vi espone al rischio di commettere errori, alcuni anche molto banali ed evitabili ed altri anche molto gravi e soprattutto vi costringe a ritornare sui vostri passi facendovi perdere del tempo prezioso che potrebbe non tornare più indietro limitando così le vostre chance di riuscita. Modello comportamentale numero 3 Approccio Data Driven In precedenza abbiamo citato Larry Page che afferma una cosa che lascia trasparire una caratteristica importante di Musk. Larry Page dice Elon sostiene che bisogna sempre partire dai principi primi di un problema. Quali leggi della fisica ci sono sotto? Quanto tempo ci vorrà? Quanto costerà? Come posso farlo costare di meno? Arriva un momento in ingegneria e in fisica in cui devi formulare giudizi su cosa è possibile e interessante. Elon lo sa, diversamente da molte altre persone, ed inoltre conosce il business, le aziende, la leadership e le questioni legate al governo. Dalle parole di Page possiamo intuitare che Musk ha la tendenza ad avere un approccio Data Driven, basato cioè sui dati. Elon non esprime giudizi basati sull'intuito o sulle emozioni del momento, ma solo ed esclusivamente sui dati in suo possesso. Sono in molti ad affermare che quando si parla con Musk bisogna essere estremamente preparati a fornire dei dati certi in relazione al discorso che si sta facendo. Musk odia l'impreparazione e soprattutto odia quando determinate cose vengono fatte senza una reale spiegazione scientifica e basata su dati certi. Questo approccio basato su dati è lo stesso approccio che pretende dai suoi dipendenti. E di perché è chiaro, più dati certi si hanno a disposizione, più i modelli decisionali sono giusti, più ci si avvicina al raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Punti chiave basati su questo modello. In qualunque scelta da fare bisogna sempre chiedersi quali dati ci sono a disposizione e a sostegno di una certa ipotesi piuttosto che di un'altra. Dobbiamo domandarci spesso se i nostri pensieri e le nostre scelte si basano su dati empirici o su credenze acquisite dall'ambiente e o dalla società. Se dovete prendere delle decisioni importanti non andate ad intuito ma cercate sempre il modo di analizzare i dati a disposizione e se non li avete trovate il modo di ottenerli anche chiedendo consiglio a persone che magari hanno già ottenuto ciò che voi volete ottenere. Modello comportamentale numero 4 Non lasciare nulla al caso Musk non tollera che una cosa si faccia semplicemente perché si è sempre fatta così e sicuramente è uno che non lascia nulla al caso. Questo modello comportamentale è un derivato della sua educazione di fisico. In fisica ogni cosa ha una sua collocazione ed un impatto preciso sul resto delle cose. Musk ha trasportato la sua mentalità da fisico in tutte le cose che ruotano intorno alla sua vita aziende e dipendenti compresi. Visto il suo approccio relativo alla preparazione e visto anche il suo modo estremo di innovare la sua convinzione che una cosa può sempre essere fatta meglio è il cartone di molti suoi processi e successi. Musk esige la perfezione ed una curata pianificazione e questo vale che si parli di razi spaziali o degli errori di grammatica presenti nelle email degli addetti al marketing. punti chiave basati su questo modello. Le basi di questo modello comportamentale di Musk sono assoluta precisione, iperpreparazione, non lasciare nulla al caso ma calcolare ogni singolo aspetto, anche quello all'apparenza più insignificante. Nelle riunioni Musk diceva il nostro lavoro è maledettamente difficile e l'approssimazione non sarà tollerata. Dunque siamo giunti alla fine di questa prima parte dei modelli comportamentali di business e di leadership di Elon Musk facenti parte del primo rapporto di analisi comportamentale di modelli di successo, il primo di una lunga serie. Come già accennato con questo rapporto, con questo primo rapporto, entriamo nella fase più importante di modelli di successo, cioè la fase di profiling e poniamo il focus sull'analisi comportamentale di tutti i grandi che il mondo ha visto e vede in questo momento. Continueremo domani con la seconda parte e così via per tutta la settimana. Questa settimana fa parte del lancio, diciamo così, del primo report di profilazione e quindi di analisi dei modelli comportamentali di business e di leadership di modelli di successo. Ci vediamo domani per il secondo appuntamento con Elon Musk e i suoi modelli comportamentali. Ciao e alla prossima!